È stata una partita difficile perché il campo era anche molto allentato, quindi bisognava scegliere tacchetti giusti, avere una durata per 90 minuti, l'abbiamo dimostrato di avere un'ottima condizione, è vero ogni tanto andavamo, oggi siamo stati un po' più normali ma siamo stati bravi ad accelerare quelle 3-4 volte che ci hanno permesso di fare anche due gol. Mi dispiace per il gol preso perché finire con una porta inviolata è sempre importante, siamo molto contenti, abbiamo un altro record in testa, vogliamo batterli tutti, il mister è bravo in questo. È da un po' che ce lo diciamo, vogliamo ribaltare il risultato dell'andata o ribaltare perlomeno vincere perché ci ha macchiato questa sconfitta, la cavalcata che stiamo facendo, però a parte gli scheri vogliamo continuare il nostro cammino indipendentemente dall'avversario. Abbiamo preso questo gol e abbiamo rischiato anche di prendere il 2-2 con Falzerano alla fine, purtroppo è stato un calo, adesso l'azione non me la ricordo bene, però sì mi ricordo che è stato un contropiede, la rivedremo sicuramente in settimana per evitare queste virgole da togliere per essere perfetti. Allora abbiamo rischiato qualche palla in più, quello sì, il campo era come ho detto prima molto allentato, era pesante, quindi questa magari un po' di rilassatezza è stata anche dalla stanchezza perché tanti compagni avevano fatto la partita tre giorni fa, insomma rilassatezza non mi piace tanto come aggettivo, forse potevamo essere un po' più cattivi, quello sicuramente. Purtroppo non ci siamo lasciati bene, insomma coi tifosi si tira dall'anno scorso, però insomma con la società e i compagni nessun problema. La nostra forza è che veramente chiunque giochi, chiunque entra in campo riesce a fare bene, riesce a fare gol, soprattutto i marcatori lo dimostrano. Siamo contenti di questo, insomma per ora Nicolas è il nostro goleador e speriamo continui, insomma a me da difensore basta che vinciamo, poi chi segna viene tutto.